Un commento su questo 0-0? La partita, il campionato è questo, l'abbiamo detto da sempre, non ci sono partiti facili. Purtroppo se la palla non entra è questo. Ora arziamo la testa, ho rincurato i ragazzi, il mister, giovedì abbiamo un'altra battaglia. Però siamo pronti, siamo pronti i ragazzi. Vedi la squadra stanca? Vabbè, ma capita, può pure starci, però sono stanchi tutti, non solo noi. Dobbiamo stringere i denti e abbiamo cinque partite importanti, quindi saremo pronti per Fossombrone. È una fase nella quale i valori della classifica si annullano, anche a Fano è stata una partita equilibrata e quindi ha detto il mister si è giocato su questa preoccupazione di dover vincere, tu sei d'accordo? Sì, d'accordissimo, ma poi stai giocando con squadre che purtroppo vogliono rimanere nella categoria, quindi chi viene qui oppure vedi l'altro risultato a Matese, sono partite molto difficili per tutti, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare subito a giovedì ad andare a vincere a Fossombrone. Però mettiamo un dato non trascurabile e positivo di giornata, si è guadagnato una domenica, un turno? Sì, questo è un turno sì. Si rimane a più cinque sulla seconda? Sì, però il problema è che anche l'Aquila si avvicina, quindi è un altro problema in questa categoria, in questa classifica. Ti ripeto, è passato, come dici tu, un'altra giornata meno, più cinque, rialziamoci, andiamo a Fossombrone a fare la partita, facciamola noi la partita della vita stavolta e andiamo a vincere. Parire su Gonzales è un buon risultato questo contro questo 0-0, perché diminuiscono le giornate? Sì, io personalmente non ti posso dire un buon risultato perché comunque la volevamo vincere a tutti i costi, però quando magari non puoi vincere o è una partita bloccata, perché comunque fino alla fine secondo me saranno così, perché tutti ci stiamo a giocare cose importanti e quindi è anche buono non perdere. Non è un campo basso stanco questo delle ultime due settimane, Fano e Vasto Girardi? No, io non sento e non penso neanche ai ragazzi che ci sia stanchezza o qualcosa, c'è che magari non la puoi sbloccare, c'è che magari in un'occasione prendi gol e basta, vai un po' in difficoltà ed è questo, però stanchezza, queste cose, non penso che ci siano a questo punto del campionato. La preoccupazione a cui alludeva il tecnico, hai sentito l'intervista perché eri al nostro fianco, condividi questo pensiero? Quello succede sempre, ma penso a tutti i livelli, poi cambia come gestisci tu questa pressione, questa preoccupazione di prendere gol magari verso la fine, quando stai vincendo anche uno a zero, quando stai pareggiando, poi chi è più bravo a gestire, chi no, chi magari perde la testa, però questo succede sempre, chi ha giocato calcio lo sa, quindi è giusto e penso che ci siamo anche, senza squilibrarci, siamo andati magari a cercare di vincerla, non abbiamo potuto, sicuramente dobbiamo e possiamo fare di più. Bene, si gioca subito, io ti chiedo cosa vi siete detti adesso, cinque minuti fa, quando vi siete confrontati negli spogliatoi? Si rigioca giovedì? Certo, faccio del ramarico un po', ma sono due minuti, poi si alza la testa, si pensa a lavorare, a pedalare ancora, perché mancano sei partite, se non è sbaglio e sono tutti importanti. Grazie. Grazie.